Parte domani sera il nuovo programma su Rai 2 in seconda serata gratis. Nella casta di giovani comici anche il marchigiano Fermano Giorgio Montanini. Sentiamolo. Questo è un nuovo programma comico della Rai che cerca di stravolgere un po' quella che è la classica comicità italiana cabarettistica dei programmi più classici come Zelig, Colorado, ma ha un'impronta satirica, fortemente satirica e in più è indiretta, quindi non suscettibile di censura. È una trasmissione che punta moltissimo su un gruppo del quale faccio parte che è Satiriasi e che fa una comicità satirica che si rifà alla stand-up comedy americana, quindi argomenti controversi, linguaggio diretto, cinico, senza censure. Giorgio Montanini è un giovane comico emergente, artista che fa parte della piattaforma per la nuova scena marchigiana Matilde, un progetto di Regione Marche e Amat. È la prima volta che un giovane comico marchigiano è protagonista di un intero programma in Rai. Per quanto riguarda i miei monologhi, chi mi conosce sa benissimo che comunque il mio stile lo conosce bene e non cambierò una virgola di quello che solitamente faccio. Quindi porterò anche un pezzo di Marche perché la mia cadenza marchigiana si sente e non la nasconderò minimamente. Quindi sarò orgogliosamente il primo marchigiano monologhista in diretta in una trasmissione. Per nove martedì di fila il comico marchigiano sarà nella programma gratis su Rai2.